a sedersi in platea invece che nei loro banchi. A questo punto lo facciamo entrare direttamente in diretta, gli facciamo togliere tutto quanto a Gennaro Mauro così arriva nei nostri studi. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, in alto diamo tempo alla nostra regia, anche mentre lei si siede, di trovare l'inquadratura migliore. Intanto buongiorno e grazie. Buongiorno, grazie a voi di avermi invitato. L'aspettavamo al telefono, invece ci ha fatto una sorpresa. Sì, sì. Che meraviglia. Ho distratto un po' di tempo al mio lavoro e sono venuto anche perché ho una trasmissione che non ho modo di ascoltare perché lavorando la mattina... È così, insomma, vede, ci partecipa direttamente. Certo, certo. Ecco, Mauro, una cosa importante, proprio su questa cosa del lavoro, non lei diceva, ho sottratto un po' di tempo al mio lavoro. Morolli, abbiamo sentito poco fa, il capogruppo del Partito Democratico sollecitato sull'assenza di alcuni consiglieri, diceva tutti lavorano, quindi insomma è un orario particolare, qualcuno arrivava in ritardo perché comunque oltre a fare i politici, visto insomma, solo di politica, e lo sa benissimo, da consigliera almeno non si campa, bisogna fare un altro lavoro. Secondo lei è una giustificazione accettabile questa? Beh, diciamo che può verificarsi un aspetto di questo genere. Volevo specificare, di politica i consiglieri comunali non vivono affatto, diciamo i loro oggettoni sono di 100-200 euro mensili, diciamo solo in alcuni casi, ma non oltre queste cifre, faccio capire che in realtà la politica è molto volontariato e molto impegno. Diciamo sul tema specifico, in realtà il tema non è tanto l'assenza di qualche consigliere comunale, ma del clima che si sta creando purtroppo a Rimini, un teatrino che svilisce un pochino la funzione del consiglio comunale e che in realtà crea, genera disaffezione tra i cittadini, i cittadini non comprendono quello che sta avvenendo a Rimini, questo è il vero tema, è il vero tema, diciamo, che è all'ordine del giorno oggi. Nei banchi dell'opposizione, ricordiamo ieri non sedeva alcun consigliere, una decisione che avete preso prima o avete preso sul posto quando avete visto che c'era qualche assenza? Ma in onda del vero io nei giorni scorsi ho fatto una proposta, diciamo, ragionevole di andare incontro alle esigenze della maggioranza con quelle minime dell'opposizione. Io speravo che il Presidente del Consiglio Comunale adevenissi in qualche modo, e io ho scritto, devo dire la verità, ho comunicato sia al Capogruppo Moroli e anche al Consigliere Zerbini, il quale è stato sempre possibilista rispetto a una condivisione con le minoranze. Tant'è vero, alla mia proposta, il Consigliere Zerbini, lo dico perché me lo ha segnalato, era favorevole. Purtroppo ieri, non solo, non sono stato, diciamo, contattato precedentemente al Consiglio Comunale Maieri, ho appreso che la mia proposta ragionevole di spostare di 15 giorni, diciamo, una delibera in modo che potessero essere accettati alcuni principi sacrosanti della minoranza non è stata tenuta in considerazione. Da qui la volontà di disertare, diciamo, di astenerci, diciamo, ad garantire il numero legale all'inizio della seduta. Parliamo della delibera, quella sul regolamento, sul voto ponderato. Guardi, è una questione davvero di poco conto questo, in un contesto più generale. Io volevo segnalare, approfitto di questo, diciamo, di questo mezzo, che la politica oggi sta cambiando completamente volto. Le aule che una volta il Consiglio Comunale erano, diciamo, luogo di proposizione, di condivisione, di analisi, di approfondimento di materie importanti per lo sviluppo di una comunità cittadina, sono svuotate. Oggi la politica la si fa sui media, con le interviste. Gli assessori non rispondono ai Consigli Comunali, rispondono ai sui giornali. È un modo diverso di far politica che chiaramente danneggia chi? Danneggia è chi sta in opposizione, che non ha gli elementi per poter in qualche modo analizzare, perché sui media va benissimo, voi fate un ottimo lavoro, però molte volte è necessario un approfondimento che i media possono fare. C'è una semplificazione sui media che chiaramente non è giusto un approfondimento nelle sedi adatte alla politica. Ecco Mauro, una cosa, Moroli dice di no, ma lei pensa che la maggioranza abbia qualche problema di numeri? Io credo no, la maggioranza ha i numeri per poter governare la città, mancano pochi mesi del resto, quindi ci mancherebbe certo rifondazione comunista, che appena uscita la maggioranza, in qualche modo fa sentire il suo peso, ma questo fa parte della semplice dialettica politica. Gnassi porterà chiaramente il governo alla città fino alla fine, perché non c'è nessun tipo di problema, ma infatti il tema non è questo, noi avremmo garantito il numero legale se ci fosse stato, non solo in questo caso, ma anche in passato, un dialogo che assolutamente non c'è. Io voglio qui denunciare una cosa, io con il nostro sindaco non ho l'opportunità di dialogare da capogruppo del maggior partito di opposizione, il mio sindaco non mi saluta addirittura. Noi arriviamo a una difficoltà di comunicazione, di dialogo, di rispetto, di ruoli inesistente, purtroppo è questa la cosa che davvero denuncia, perché molte cose potrebbero essere chiarite come in famiglia, come in tutti i contesti, dialogando, rapportando le reciproche necessità e trovare una soluzione di sintesi, oggi come oggi, sui temi strategici della città, incominciare dal parco del mare a finire la questione dell'aeroporto, in realtà manca un dialogo. Oggi questa amministrazione riconduce sul parco del mare, che è un tema attualissimo, che è molto più importante rispetto alle problematiche che stiamo studendo stamani, sul parco del mare, che è in realtà la dinamazione di quello che era il piano strategico, votato all'unanimità, è diventato il parco di Ignassi, che non ha condiviso con nessuno e che non condivide con le associazioni di categorie, con gli imprenditori. C'è questa mancanza di dialogo, questa è la vera colpa, se voglio lanciare nei confronti dell'attuale classe dirigente del Partito Democratico e di quella che governa questa città. In merito a ieri sera anche il sindaco non ce l'era, era giustificato, aveva detto che sarebbe arrivato con mezz'ora di ritardo, però mancavano anche tanti altri amministratori. C'era solo l'assessore Biagini. C'era solo l'assessore Biagini. Ecco, come vede anche questo? Perché sa poi, come dice lei, giustamente le questioni sono di molto importanti, però anche per i cittadini che comunque vi hanno votato, hanno dato la loro fiducia ai rappresentanti che poi siedono in quei banchi, sia tra i consiglieri che tra gli assessori. Vabbè, gli assessori vengono scelti, però comunque resta una fiducia del cittadino. Ecco, vedere questa scena, forse qualche domanda da casa, anche guardando ieri sera la televisione, qualcuno se le posta, Mauro. Sì, io dico che è proprio figlia del diverso modo di fare politica. Io rispetto tutti i ragazzi, posso dire ragazzi perché sono tutti più giovani di me che siedono nei banchi della Giunta, sono le persone anche preparate che cercano di fare meglio il loro lavoro. Sicuramente il figlio di una politica che vuole che l'assessore e il vice sindaco rispondano ai giornali, ma non al consigliere Pazzaia su, per esempio, il problema del post scuola. Ogni tipo di problematica che noi poniamo la conosciamo dai giornali. Il consigliere comunale non sa nulla di quello che avviene nella città, lo apprende da voi. Ascoltando e leggendo la vostra... Comunque Morolli ci ha detto questa mattina che l'auspicio è che non succeda più. Di qui ad aprile, insomma, che non ci siano più sedute, che vadano deserte. Ma guardi, basterebbe un... Se non vadano senza numero legale. No, basterebbe un minimo riconoscimento del ruolo della minoranza, perché noi siamo consci, io ripeto, sulla questione in specifico del voto maggiorato. Io dall'inizio ho detto che era una legittima posizione a parte del Partito Democratico, anche perché quasi tutti gli statuti, i regolamenti dell'Emilia Romagna prevedono questo istituto. A Rimi non c'era, si può introdurre. Ma altresì, io, in cambio, avevo chiesto alcuni, diciamo, realtà prerogative per minoranza. Noi abbiamo mozioni che non sono discusse da anni. Abbiamo, diciamo, abbiamo un'ingessatura che vorremmo rendere più snella. Sarebbe sedersi in un tavolo, come stiamo facendo adesso, e discutere. Sicuramente avremmo trovato la quadra. Io ho chiesto al Presidente del Consiglio Comunale ieri di tenere in considerazione la mia proposta, che comunque stiamo perdendo così tanto tempo rispetto, con questa elettricità, con questo muro contro muro, che noi potevamo già averlo fatto. Quindi dal suo punto di vista, poi chiaramente ci sono diverse compagini della minoranza. Manca il dialogo. Quindi non è uno struzionismo politico, anche un po' da campagna elettorale. No, ma guardi, guardi, è chiaro che le posizioni sono diversificate in campagna elettorale. In campagna elettorale in realtà c'è tutto, c'è la possibilità. Io, diciamo, poi ho, diciamo, la stessa minoranza è fatta di diverse sensibilità. Io, giusto per buttarla così, martedì ci sarà, e faccio un po' di pubblicità al momento 5 Stelle, alla problematica della rotatoria di Via Montescuto. Io avevo cercato di portare in commissione questo tema per liberarlo dalla strumentalizzazione partitica politica. Ma purtroppo la logica politica, il Movimento 5 Stelle fa una riunione e poi mi invita a partecipare alla loro riunione sul Via Montescuto. Ecco, purtroppo la politica è fatta di questi aspetti e noi ne dobbiamo tenere conto. Il mio auspicio, un invito che faccio a voi, è di cercare davvero di entrare più dentro la notizia, perché questa è la richiesta che la politica e la politica minoranza fa. Entrare più dentro la politica significa anche conoscere un po' meglio i risvolti, perché la semplificazione a volte... Ma sa, credo che da questo punto di vista il servizio che viene anche svolto dalla nostra emittente, proprio di farlo vedere o di farlo ascoltare il Consiglio Comunale, credo che sia davvero quella togliere la mediazione e permettere ai cittadini di andare a vedere cosa succede nelle sale che contano in teoria. Ma sa qual è l'aspetto negativo in tutto quello? La telecamera. La telecamera porta a fare dei comizi, a volte a uscire fuori un po' da seminato. Però sa, d'altra parte, questo fa parte del nostro tempo contemporaneo, non potrebbe essere diversamente. Purtroppo sì. Esatto, molto gentile, insomma, anche in questo modo abbiamo sentito anche posizioni diverse, come facciamo sempre, il nostro desiderio, insomma, magari non riusciamo ad approfondire come... Vorremmo però almeno a sentire le voci in campo, in modo tale che le persone da casa si possano fare una loro idea. Io questo vi ringrazio. Un invito, se almeno consentito alla fine. Io ammero tantissimo i giovani. Io so che i giovani la politica, le grandi svolte, dall'unità d'Italia alla ricostruzione del dopoguerra, è stata fatta da tanti giovani. Non che siamo in un posto particolare questo, quindi non vorrei essere retorico ricordando il Beato Marfelli. Ecco, ma quello che forse manca alla classe dirigente, io mi sento un po' inadeguato che sono cinquantenne, ho deciso di farlo, ho deciso, diciamo, di fare la politica con la maturità, ecco, rispetto ad altri. Quello che forse manca a questa gioventù nuova, nazionale, questi bei giovani, è proprio l'equilibrio, è proprio il ponderare, diciamo, le esigenze di tutti, della collettività, e anche di chi in quel momento si trova a fare opposizione. Questo è quello che manca a questa amministrazione comunale e che manca anche al nostro sindaco. E devo dire, io apprezzo, è anche una persona talentuosa, una persona davvero che ha tante, tante virtù, tante capacità. Gli manca la forza e la costa principale. La lanciamo, questo appello di Mauro, direttamente dai nostri studi. Esattamente. Speriamo anche di avere il nostro ospite, il sindaco, per parlare di tante questioni aperte sulla città. E anche, insomma, di queste problematiche. Ah, anche, certo, perché, insomma, non credo che l'abbia proprio presa bene ieri sera. Le ringrazio. Grazie.